Per Kovacek che però non ha spazio perché l'Italia è ben posizionata in difesa, ancora Bikita, le finte ridurre, sgranero, look il suo, ci pensa Ebner, intervento eccezionale di Ebner dai sementi, che rapidità di Ebner ad avanzare, a prendere la posizione. Ciao a tutti, buongiorno ad Alla Germania, oggi vi faccio vedere la mia giornata in questi giorni, seguitemi la mia calazione. Lavorare un po', un caffè per favore, grazie, ah che bello caffè, faccio il pranzo da solo, delizioso, Fare qualcosa per l'università Alcuni studi video di Palamano Fare un giro Andiamo! Finito Preparare la cena Mamma mia, delizioso! Buona Palamano a tutti, ciao ciao!